Chiuso un centro massaggi a Lippunti, le prime segnalazioni erano partite qualche tempo fa dagli abitanti della zona, allarmati dal continuo via vai di uomini in via Orecchioni nel quartiere di Lippunti. Così lunedì mattina i carabinieri del nucleo antisofisticazioni del comando provinciale di Sassari hanno apposto i sigilli a un centro massaggi gestito da cinesi. L'attività andava avanti da qualche tempo e ha permesso di accertare che le persone che facevano riferimento al centro massaggi portassero avanti attività illegali fino a ieri mattina quando i NAS hanno affisso il cartello con il provvedimento giudiziario.